Natalino Si? Natalino Sono io Natalino Natalino Si sono io Oh che bello Che bello Oh si Natalino Si Stai con me ancora 5 minuti Ma non so se posso Dai per favore Dai 5 minuti Dai Natalino Ancora 5 minuti Non so se posso Dai Ma insomma avrei da fare ecco 5 minuti non sono mica tanti Ancora 3 minuti Dai Per favore Ma Tre Tre Ma tre Ma tre Ma Ma però 3 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti Porca di una miseria Porca di una bestia 3 minuti 2 minuti 2 minuti Da casa 2 minuti 2 minuti 2 minuti Ho sentito ! Nudo ? non c'è limite al peggio vedete rispetto alle domande della filosofia i temi sono spesso riguardanti i grandi assoluti il tempo, lo spazio l'infinito sapete che riguardo a questi argomenti Aristotele era solito ripetere e io non so che razza di droga usasse Aristotele ma vi assicuro che parlava così beh io però vi chiedo e mi chiedo quanto tempo è passato da quando il grande filosofo buddista Wu Lin espose la propria teoria che si potrebbe riassumere nell'assunto Tonkyo fa ciò che vuoi a quando il grande filosofo Zeng Lin Po forse secoli dopo postillò Tonkyo Wu Yin Wo fa ciò che vuoi basta che non rompi i coglioni quanto tempo è passato da quando Archimede di Siracusa scoprì quel suo principio dell'idrostatica che afferma che un corpo immerso in un liquido è meglio che sappia nuotare o da quando Gesù durante l'ultima cena all'improvviso disse uno di voi mi tradirà e Giuda domandò caffè limoncelli grappe o da quando Muzio scevola organizzò quella sua grigliata per gli amici la carne ne risultò salatissima e Muzio disse scusate mi è scappata la mano io non so quanto tempo è passato da quando Archimede di Siracusa scusate Archimede l'abbiamo già detto Archimede attenzione perché interrogo poi Galileo Galilei si svegliò una notte di soprassalto esclamando eppur si muove illudendo per un attimo anche la moglie io non so quanto tempo sia passato però vedete so che se siete tutti qui questa sera è perché ciascuno di voi ha letto almeno due o tre testi del filosofo che ci accompagnerà con le sue illuminazioni durante tutto l'arco della serata e dal fatto che annuite in maniera così energica intuisco che avete anche già capito di chi stiamo parlando avete ragione è lui Savino Pezza beh non pensiate che il pezzo sia così conosciuto al di fuori di questo teatro vi sbagliate siete gli unici vedete il pezzo è poco letto principalmente perché è un intellettuale autentico non vuole mediazioni culturali pensa in dialetto scrive in dialetto i suoi testi sono molto importanti vi ricordo il suo ultimo saggio intitolato Sochmel per il quale vorrei ricordarvi l'avvio si tratta di un breve edistico intitolato l'urlo che recita grosso modo se l'urlo agghiacciante che ti sveglia all'improvviso nella notte è quello di un pedone vuol dire che ti eri addormentato in macchina ecco chi è il pezzo il filosofo è ben nota la polemica che ci fu tra Savino Pezza ed Albert Einstein come saprete per quanto concerne la metrica di Riemann noi sappiamo che Einstein si occupò per due anni della metrica di Riemann e nucleandone i due quesiti portanti della questione il primo dice di fronte ad una legge del campo basata sulla teoria della relatività ristretta come dobbiamo riferirci al caso di una vecchia metrica di Riemann il secondo dice come enunciare le leggi differenziali che da oggi in poi riguarderanno una metrica del Riemann ebbene il Pezza col suo saggio intitolato Vaca Gher ti è Riemann risponde a questi quesiti in maniera garbata ma precisa ora noi questa sera andremo ad analizzare l'intero ventaglio della ricerca pezziana a partire dai suoi studi esegetici quindi parleremo di religioni di antichi test sapete che c'è questo antico testo che si intitola La Genesi nel quale è scritto che il Dio disse all'uomo di dare un nome a tutte le cose e l'uomo chiamò tutte le cose Giampiero ecco vedete il Pezza ci dice che non è vero che prima c'è la realtà e dopo noi gli diamo un nome è vero il contrario prima noi definiamo le cose prima noi gli diamo un nome e in un secondo tempo le cose si adeguano al nome che noi gli avevamo dato può sembrare un assurdo ma è così vi faccio un esempio quando io arrivo alla stazione col mio treno per prendere un altro treno ecco quest'altro treno lo chiamo coincidenza noi diciamo vado a prendere la coincidenza mentre in Svizzera questo stesso tipo di treno ha un altro nome si chiama corrispondenza in Svizzera dicono vado a prendere la corrispondenza non dicono esattamente così dicono però intendono dire vado a prendere la corrispondenza ora va detto che in Svizzera la realtà si è adeguata a questo nome cioè effettivamente vi è una corrispondenza al fatto che io arrivo alla stazione col mio treno corrisponde il fatto che c'è un altro treno che mi attende per un'altra destinazione in Italia quando io arrivo alla stazione col mio treno se c'è l'altro treno è una coincidenza la realtà si è adeguata la realtà si adegua sempre beh a volte coincidono anche gli orari mentre il tuo treno sta arrivando l'altro treno sta partendo beh parleremo questa sera anche di socialità di opinioni di pensiero e io vedete sono sempre stato un paladino del libero pensiero chi mi conosce lo sa quattro anni fa sono stato anche incarcerato perché credevo nelle mie idee qualcuno avrà letto sono stato incarcerato per un reato di opinione io ero dell'opinione che emettere assegni a vuoto si potesse la banca popolare di milano abbracciava una scuola di pensiero totalmente opposta sono scuole di pensiero che si scontrano ha vinto la banca popolare una cosa che non tutti sanno è che in carcere c'è la televisione ma per punizione si vede solo rete 4 e non i bellissimi Emilio Fede e anche io mi ponevo la domanda si consumerà prima la lingua del servo o il culo del padrone questa è la domanda ma vedete quando si ha quando si ha molto tempo a disposizione si impara che gli orari regolari rappresentano salute io sono diventato un salutista tutti i giorni io salto dal letto balzo come un grillo alle 13.30 cascasse del mondo sono in piedi faccio una breve passeggiata dalla camera al bagno un'intensa seduta di che sono pronto per la colazione una colazione frugale molto frugale frugo in credenza e mi spazzolo tutto dalle pale del murino bianco alle poppe delle tre marie quello che c'è c'è sono un salutista consumo alimenti che contengono molti cereali come la birra scura doppio malto mi servo da una macelleria che usa metodi di macellazione tradizionali abbatte il bestiame a pugni sono un salutista altronde so che una mente sana può stare solo dentro un corpo sano e io in un corpo sano ci entro due volte la settimana pagando quello che c'è da pagare perché di fronte alla salute non vado a spese vedete io questa mattina mi sono commosso leggendo l'articolo di un quotidiano si parlava di un ritrovamento avvenuto nella città di Cnosso mi ha commosso più devo dire la foto che l'articolo in sé si parlava di questo pezzo di legno apparentemente significante che si è rivelato essere l'asse del letto del capostipite della civiltà minoica quindi stiamo parlando del re Minos mitologico ora vedete io ho visto la foto si vedeva la pietra vista dall'alto si vedeva il fossato che delimitava il perimetro del palazzo reale quella foto era identica ad una foto scattata 15 anni fa da un importante studioso del pensiero greco Savino Pezza il quale aveva effettuato un identico ritrovamento sotto una grande pietra nel fossato che delimitava il palazzo reale aveva trovato l'asse del letto di un re signora signori e anche signora lei ancora più mitologico perché ci troviamo ad Itaca si tratterebbe del re Ulisse e noi sappiamo che il pezzo si è occupato a lungo del mito di Ulisse questo grande condottiero che è costretto ad abbandonare la famiglia la moglie per partire per una lunga lunghissima guerra lascia la moglie Penelope la quale sulle prime ha qualche dubbio ma quale moglie non l'avrebbe avuto se il proprio marito le avesse detto vado a Troia ora sappiamo che Penelope è anche l'emblema della fedeltà coniugale i proci che sono gli avversari politici di Ulisse le propongono anche un matrimonio ma lei escogita lo stratagemma della tela e dice sposerò uno di voi solo dopo che avrò terminato di tessere questa tela ma cosa fa Penelope di giorno la tesse ma di notte la disfa e questo le permetterà di procrastinare le nozze andrà avanti in questo modo per vent'anni e i proci non sospettarono mai niente erano altri tempi erano anche proci Ulisse raggiungerà anche l'isola della maga Circe questa fattucchiera che aveva un potere nello sguardo straordinario solo guardando negli occhi gli uomini riusciva a trasformarli in maiali devo dire che conosco due o tre ragazze che sanno fare altre cose non è che ci voglia una maga parliamoci chiaramente Penelope raggiungerà anche l'isola dei ciclopi questi giganti con un occhio solo terrificanti si nutrono di carne umana incontra Polifemo che mangia qualche compagno di Ulisse Ulisse li piange erano tanto buoni a chi lo dici Ulisse capisce che non deve nemmeno svelargli il proprio nome infatti quando Polifemo gli chiederà come si chiami Ulisse risponderà nessuno il mio nome è nessuno e questo risulterà utile perché poi coi suoi compagni piantandogli un palo a guzzo nell'unico occhio riuscirà ad accecare Polifemo e a fuggire ma arriveranno i fratelli di Polifemo i quali gli chiederanno chi ti ha fatto questo chi ti ha accecato così e Polifemo risponde nessuno è stato nessuno d'accordo sei fatto male da solo sta più attento la prossima volta come ha fatto ognuno ha i suoi gusti nel frattempo Ulisse riesce finalmente a tornare ad Itaca sgomina i proci con un ennesimo stratagemma si traveste da vecchio per non farsi riconoscere ma tutti lo riconoscono subito perché nel frattempo era già vecchio hanno passato i 40 anni ora questo è il mito di cui si è occupato il pezza e io stamattina vedendo quella foto relativa a Knosso devo dire mi sono commosso perché mi sembrava di vedere la stessa foto scattata dal pezza quasi non si notava differenza si vedeva la pietra si vedeva il fossato ma non si riusciva a capire se si trattasse del fosso del masso dell'asse di Ulisse o del fosso del masso dell'asse di Minosse ecco è vero che il re di Itaca aveva fatto sotterrare assieme all'asse del letto anche il suo vecchio cane Argo un cane di grossa taglia ma è altrettanto vero che Minosse aveva fatto sotterrare un animaletto che gli teneva a compagnia a Palazzo un piccolo tasso con cui amava giocare ma i resti animali sono troppo pochi non si riesce a capire se si tratti della carcassa del molosso grasso del fosso del masso dell'asse di Ulisse o della carcassa del tasso basso del fosso del masso dell'asse di Minosse e gli studi si sono concentrati su una piccola frazione d'osso proprio per capire se si tratti dell'osso grosso della carcassa del molosso grasso del fosso del masso dell'asse di Ulisse o dell'osso rosso della carcassa del tasso basso del fosso del masso dell'asse di Minosse e si tratterebbe addirittura di un terzo animale importato un opossum signori abbiamo dei documenti sappiamo che l'animale non era del tutto sveglio che era appartenuto all'antico re africano Manasse e in questo caso l'asse non sarebbe quella del letto perché in Africa c'erano ben altre abitudini quindi ci troviamo di fronte all'osso rimosso della carcassa dell'opossum fesso del fosso del masso dell'asse del cesso di Manasse e questo mi ha commosso applausi 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 voi tutti sapete che ci fu negli anni 40 una grande polemica una grande querelle un grande dibattito un grande litigio ho già esaurito i sinonimi tra quello che forse è il più importante teorizzatore della comunicazione lui il Rosenzweig ed un suo grande antagonista Savino Pezza sapete che la polemica riguardava l'aneddoto del formaggio che era un esempio che il Rosenzweig citava a suffragio delle proprie teorie che cosa ci dice il Rosenzweig quando io vado ad acquistare un pezzo di formaggio probabilmente avrò già nella mia testa un'idea del formaggio un'idea che però mi sarò formata grazie ad un processo mnemonico io non ho ancora mangiato quel pezzo di formaggio ma ricorderò di averne mangiato un altro precedentemente però attenzione perché tra il pezzo di formaggio che ricordo che ho già mangiato che c'è nella mia testa e il pezzo di formaggio che il salumiere mi sta incartando in questo momento che devo ancora mangiare non c'è nessun nesso sostanziale quando anche io andassi a chiedere al salumiere di spiegarmi quale sia l'essenza del formaggio ma non di quel singolo pezzo badate bene non alludo a quel pezzo di formaggio ma al formaggio in generale alla formaggità beh Rosenzweig afferma che a questa domanda probabilmente il salumiere non saprebbe rispondere vedete in tutto questo ragionamento l'unica cosa che rimane invariata è la parola formaggio è una parola un significante senza significato un vestito esteriore che non mi spiega nulla dell'interiorità dell'essenza del formaggio è un cappottone vuoto Savino Pezza inserisce una piccola variante a questo ragionamento e gli afferma ammettiamo che il Rosenzweig vada ad acquistare un pezzo di formaggio ammettiamo anche che chieda al salumiere di spiegargli quale sia l'essenza del formaggio non di quel singolo pezzo l'essenza del formaggio in generale la formaggità ora ammettiamo che il salumiere esca dal bancone e gli sferri un calcio nei coglioni interesserà ancora a Rosenzweig conoscere l'essenza del formaggio mangerà ancora formaggi in vita sua in seguito e soprattutto quando riprenderà a respirare questi sono i quesiti che l'intellettuale delle forze se compra in spezza grazie a tutti grazie a tutti per capire salabà per capire la sua setta e le sette sotto sette della sua setta bisogna capire che epoche erano erano epoche di pastorizia le greggi erano recalcitranti gli animaletti erano sfuggevoli andavano spesso in calore un giorno salabà stava inseguendo una capretta sfuggevole riottose d'accordo la capretta non era in calore ma salabà sì l'aveva quasi raggiunta quando all'improvviso si squarciò il cielo sese una luce si udì una voce le acque si separarono e salabà disse bisogna che la smetta di fumare quell'erba città ma una vocina interiore gli disse che doveva uscire dalla capadoccia gli disse proprio salabà esci dalla capadoccia allora salabà uscì dalla capadoccia infilò l'accapatoio e si trovò ad allargire insegnamenti alle masse diceva i disegni dell'altissimo sono impescruttabili ma i disegni di mio figlio sono inguardabili diceva l'uomo che cammina nelle tenebre deve stare attento si sbatte dappertutto nelle tenebre cosa cammini a fare nelle tenebre stai a casa che meglio diceva se tu torni a casa tua e trovi tua moglie a letto con un uomo è un'occasione per riflettere sul matrimonio se la trovi con due uomini è un'occasione per riflettere sulla coppia se la trovi con tre uomini è un'occasione per tua moglie questo è ora Salabar attraversò la Galilea attraversò la Cananea attraversò la Giudea avvertì un forte dolore di testa capì di essere giunto in cefalea si trovò di fronte ad un uomo completamente nudo che gli dice aiutami santo uomo perché i predoni del deserto mi hanno assalito mi hanno spogliato e si sono per giunta divertiti alle mie spalle salabarsi in pietosì e disse beh uno più uno meno ma costui era un po' permaloso e gli sverrò un calcio nel sacchettino scrottale Salabar dopo venti minuti di apnea parlò e disse ahio ora va detta una cosa Salabar aveva una famiglia molto unita c'era sua moglie sala giochi suo figlio sala bingo e poi aveva tre sorelle una un po' cicciottella si chiamava salamella l'altra purtroppo faceva la prostituta si chiamava salamelechi e poi c'era una terza sorella che però non si sapeva mai dove era si chiamava saralà ora Salabar decise di andarla a cercare al mercato di caparna vide un uomo che vendeva polli era un gallileo vide un uomo che fumava l'erba era un cannaneo vide un uomo che vendeva pentole era cesare cadeo ma non vide sarà là e nonostante tutto Salabar aveva sempre una parola buona per tutti un bimbo gli disse i miei genitori non si occupano di me mi accompagnano dai nonni la domenica poi tornano a prendermi la sera ma io tutte quelle ore al cimitero mi annoio mi annoio male disse Salabar ma una vocina interiore gli disse che era giunto il momento di compiere dei miracoli allora Salabar andò nel deserto e disse io adesso sto nel deserto 40 giorni senza mangiare senza bere ma che sono miracoli questi andò nel deserto dopo 20 minuti dice che fame però e tornò a casa cosa stai a fare dal deserto però lui portava la pace in giro nel mondo vide una volta della gente che stava lapidando una donna le tiravano dei pietroni grossi proprio e Salabar li fermò e salvò quella donna disse basta ma siete impazziti rovinate il muretto dai andate a casa poi chiese alla donna ma perché ti volevano lapidare questi matti e lei disse perché sono una prostituta e che prezzi fai? attualmente mi attesto sulle centomila oi c'è caro però e fa bene tirarti i pietroni a bassi prezzi no aveva una parola per tutti Salabar e poi decise di compiere un altro miracolo disse adesso vado nel lago di Cafarnao e cammino sulle acque andò mise il piede in acqua e disse oi c'è freddina però sembrava più calda da lontano e tornò a casa ti prendi il raffreddore è che sono miracoli da far d'estate questi qua ma per la via incontrò due disepoli taoisti li salutò alla loro maniera tao tao ed essi gli avevano portato un indemoniato da guarire costui sbavava come un san bernardo si agitava come una stringa di petardi e Salabar gli chiese come ti chiami Vittorio Sgarbi io vado a casa cosa fare qua ma poi incontrò i figli di Zbedeo Giovanni e Giacomo non c'era ancora Aldo allora e loro gli dissero maestro dacci un insegnamento dici una parabola noi sappiamo che tu hai un sacco di parabole in serbo si ma se ve le dico in serbo non le capite dai però vi voglio dare un insegnamento non si vive di solo pane anche i griscini sono buoni che santo uomo un santo uomo un santo uomo beh io vi voglio rubare solo cinque minuti ma sono veramente scivolano via perché parleremo sì di un oggetto commerciale ma di un oggetto che siete abituati ad usare in casa tutti i giorni e chi in cucina almeno una volta non ha mai usato un fren appunto dunque il fren è un oggetto europeo moderno conforme alle norme CEI conferenza episcopale italiana ora il fren va usato con cautela non va agitato va tenuto lontano dalla portata dei bambini ma ben in vista ad esempio sopra una credenza così loro lo vedono lo vogliono e voi non glielo date vedete io penso che oggi il vero nemico della nostra vita sia il dubbio io non so cosa succede fra cinque minuti ma mi piacerebbe saperlo per esempio sei in casa suonano alla porta non sai chi è ma ti piacerebbe saperlo perché è chiaro che il tuo atteggiamento si predisporrebbe a seconda dei casi possono essere i testimoni di Geova possono essere i tuoi genitori è chiaro che in un caso li cacci fuori a calci nell'altro gli dici non mi interessa la vostra rivista tornate gentilmente alla sala del regno è il dubbio il vero padrone della nostra vita io ora voglio rivolgermi agli uomini soprattutto ai mariti vedete quando voi uscite con vostra moglie ci tenete che sia graziosa che si vesta bene che sia accattivante diciamo si trucchi un po' vedete queste sono sottigliezze che gli psicologi conoscono molto bene anche alle persone più gelose più possessive fa piacere nel proprio recondito che la propria moglie piaccia fisicamente anche agli altri che attiri gli altri che faccia sbavare il prossimo che attraversi la strada fra i grugniti dei camionisti e se si tratta di un giorno speciale in cui si festeggia una data una ricorrenza beh volete anche vederla sorridere volete vederla felice e lasciate scegliere a lei quelle cose che in genere scegliete assieme sappiamo che in una coppia i gusti sono spesso diversi antitetici addirittura quando si sceglie si raggiunge una mediazione che serve proprio a non accontentare nessuno dei due ma in queste occasioni no fate scegliere tutto a lei a partire dal cinema cinema film i gusti sono diversi lo sappiamo voi siete per film d'azione film in cui si combatta un film è un buon film se ci si fa molto male ecco non si sono ancora esauriti i titoli di testa e c'è già stata una strage prima della fine del primo tempo deve essere perlomeno scomparso un popolo dalla faccia della terra se no non è un buon film lei invece per film più sentimentali film anche più di introspezione psicologica un film per essere un buon film deve essere pieno di problemi bisogna soffrire a livello interiore la storia è questa c'è una donna che deve dire una cosa ad un uomo ma ha un problema non ce la fa non ce la fa per tutto il primo tempo all'inizio del secondo tempo lui intuisce quello che lei voleva dirgli ma ha un problema non riesce a chiederglielo poi arriva una terza persona che è amica dei due e può risolvere il problema basta che parli con entrambi ma ha un problema è muto ora vedete il suo ideale di film il suo ideale di film è quando si esce dalla sala piangendo forse voi non amate questi film non vi piacciono ma voi andate con lei a vedere quei film l'accompagnate perché perché la sua festa è un giorno in cui tutto deve essere scelto da lei anche il ristorante anche in questo campo i gusti sono molto diversi voi siete per trattorie posti alla buona posti in cui in cucina si macellano vitelli importati illegalmente posti in cui dopo il caffè c'è la gara di rutti posti a polla buona lei invece è per ristorantini locali un po' particolari se proprio deve andare sul semplice piuttosto scegli un cinese piuttosto va in pizzeria ma la donna associa l'idea del cibo a quella del ricordo la donna non ordina un tipo di vino perché le piaccia lo ordina perché le ricorda una bella giornata che ha trascorso e state tranquilli non è stato con voi e voi costi quel che costi e costa tanto tra l'altro le ordinate quel tipo di vino perché volete vederla sorridere e le fate scegliere anche l'argomento di conversazione è evidente che quando l'argomento di conversazione lo sceglie lei si parla di sua madre intendiamoci sua madre non vi sta antipatica al contrario vi sta simpatica forse ogni tanto parla un po' a vanvera ma sappiamo ha una certa età si torna un po' bambini ecco bisognerebbe essere picchiati e voi lasciate a lei anche la scelta dell'argomento e anche quelle piccole frasi che potrebbero dare adito a qualche gelosia diventano spunti per scherzarci sopra la gelosia non può rovinare una così bella serata anche se lei arrivasse a dirvi che ha invitato domani a sera a cena quel suo collega d'ufficio tanto divertente la fa sempre ridere giovane bel ragazzo tra l'altro comunque con cui si trova molto bene con cui si chiude spesso nello sgabuzzino a fare le fotocopie e voi avreste diritto ad essere giustamente gelosi ma in queste occasioni no la gelosia non deve rovinare niente e allora avete la risposta pronta la battuta pronta e rispondete ah sì e rimanete pietrificati per mezz'ora c'è qualche problema no altra mezz'ora di silenzio lo vedi che sei geloso geloso io sei tu che sei meschina vabbè se io sono meschina tu sei un miserabile miserabile il miserabile ti ha appena ordinato un peroldego da 65 mila lire la bottiglia e lo ordini solo perché ti piace il nome perché tu non ti intendi di vini tu non distingui il coccolino dal grignolino tu non sai cosa è un vino mi ordini il rosso con il pesce ti mancano i fondamentali uscire con te come giocare a Shanghai con un maiale proprio perché ti manca il senso del gusto estetico ti lamenti che i camionisti ti grugniscono dietro ma ti sei guardata sembri un puttanone moldavo cioè non piangere ti ho fatto scegliere tutto questa sera siamo andati a vedere un film dove per due ore si parla un film dove si parla che film è ma allora vado al bar ce ne avevo le scelte e ho rinunciato ho rinunciato allo psicotico genocida talebano del New Jersey ho rinunciato a Selene e il suo idrante per andare a vedere un film dove per due ore si parla e il ristorante perché dobbiamo andare tre volte alla settimana dal cinese che torniamo a casa che puzziamo di carogna il cane guaisce non mi riconosce neanche lui lo stomaco è perplesso perché qual è il tuo modello di cucina? tua madre casa di tua madre è il paradiso della gastrite lei fa le cose che odio le fa apposta odio le lasagne sono 14 anni che mi fa lasagne le sue non sono neanche lasagne sono piastrelle di ghisa condite con un sugo da epatite non A non B lo voglio dire io sono 14 anni che odio tua madre mi sta addosso quella brutta vecchia vuole sapere cosa faccio quanto guadagno ma che cazzo te ne frega quanto vuoi che guadagni uno che vende una roba che si chiama frega un frame un frame beh voi tutti sapete che c'è questo importante re del passato che pronunciava una frase beh che a mio avviso è di una modernità sconcertante questo re diceva la civiltà la civiltà di un popolo si misura da come questo popolo sa educare i propri bambini che bella frase ovviamente sto parlando del re Erode ma vedete Erode Erode non è l'unico del passato che si sia occupato dell'infanzia sono stati studi ci sono state ricerche recentemente questo importante pedagogo contemporaneo Savino Pezza ci dice che l'imprinting nel genere umano avviene la prima settimana di vita cosa significa un bambino può imparare molte più cose la prima settimana che i successivi dieci anni in quella settimana ha un cervello strutturato in maniera tale che potrebbe incamerare miliardi di informazioni se noi gliele dessimo ora va detto che noi queste informazioni non gliele diamo perché vedete quando parliamo con un neonato tendiamo ad utilizzare un tipo di linguaggio non solo non comprensibile al bimbo ma anche non comprensibile a noi stessi di fronte al bimbo in fasce l'adulto tende a trasformarsi in un deficiente totale e pronuncia frasi come ma ti sei lì che sei te chi sei lì chi sei lì lì Dopo aver ricevuto queste informazioni Io mi chiedo come può un bimbo in fasce nutrire fiducia in gente che parla così. È evidente che il bimbo imparerà tardi a parlare. È altresì evidente che avrà continue crisi di identità. Perché un bimbo cui viene ripetuto, ma che bei piedini santi, ma che belle manine sante, dice il bimbo pensa di essere padre Pio, ma non è colpa sua, è colpa nostra. Ai bimbi le cose vanno dette come stanno. Vedete, lo dice il pezza. Io posso fare anche qualche esempio privato perché in famiglia seguiamo il metodo pezziano. Vedete, io a mio figlio, che ha solo tre mesi, dico vercingetorige. A volte lo chiamiamo vercingetorige, le tue dita dei piedi sono disposte in maniera davvero regolare. Lui ha tre mesi ma si capisce che ha capito, perché quando dico così si guarda il piede e mi guarda. E fa, devo riconoscere di avere dei graziosi alluci. Dico, è vero babbo, si esprime così, con mia moglie, lo mettiamo a cena sul seggiolone e lui parla così. Cioè, prima prende l'equilibrio perché hanno un testone che è difficile che stia... Poi quando finalmente è riuscito, mi dice, ti ringrazio mamma cara di avere approntato il desco in maniera effettivamente celere, ma ti pregherai di porre un freno agli omogeneizzati che mi hanno ormai sfilacciato le sacche spermifere. Il bimbo di quell'età lì può concettualizzare tutto. Noi adesso stiamo analizzando questa cosa studiata a lungo dal pezza, la popò. Ci avete mai fatto caso? Perché un bimbo dopo averla fatta ride? Il pezza lo sa, il bimbo ride perché è felice. È felice di aver prodotto qualcosa. È l'unica cosa che riesce a produrre a quell'età e ne va giustamente orgoglioso. Nel suo subconscio lo vive addirittura come un dono. Un dono che fa alla società. Nel futuro la società gliene restituirà con gli interessi. Lo sommergerà di regali. Vedete, questo ci deve servire per responsabilizzarlo circa i meccanismi di produzione. Infatti noi verci lo paghiamo. Cioè più ne fa, più soldini prende. E lui non la chiama popò, lo chiama prodotto interno, lordo. Le cose le capiscono. Vedete, un altro mito da sfatare è quello della curiosità dei bambini. I bambini chiedono continuamente perché. Ma la curiosità è una piccola componente. In realtà in quel momento stanno facendo un test. Vogliono capire se hanno di fronte a sé un adulto di cui potranno fidarsi in futuro. Ecco perché il pezzo ci dice che è importante dimostrare sicurezza. La risposta non è importante che sia esatta. È importante che sia immediata. Non deve mai passare più di un secondo dalla domanda alla risposta. Anche in questo caso posso farvi un esempio privato. Non più di due giorni fa mi divertivo a giocare con i suoi robot transformer. Sono dei giocattoli tecnologici che i bambini fanno molta fatica ad assemblare. Gli adulti non ci riescono. Ecco io però mi divertivo insomma. Lui era di là che guardava il telegiornale. A un certo punto arriva e io capisco, lo capisco dalla faccia, che sta per chiedermi una sequenza interminabile di perché. È lì che il genitore deve prepararsi e tenere presente che non dovrà mai passare più di un secondo dalla domanda alla risposta. Verzi mi chiede, papà, che cos'è il verde? Il verde è un colore, Verzi? E perché il verde è verde? Il verde è verde perché noi lo vediamo verde? Non perché egli lo sia, Verzi. E perché le foglie sono verdi? Perché c'è un meccanismo che si chiama fotosintesi clorofiliana fa arrivare alla superficie una particella che rimbalzando via luce del sole noi la vediamo verde, Verzi. E perché il vestito tra... Un secondo! Ma deve essere immediata l'azione! Bisogna essere concentrati e preparati, allenati. C'è chi lo fa anche di piede, ma non è facile. E non è che puoi colpire a caso. C'è un punto preciso. C'è un punto preciso. Si chiama punto P. Cuno colpisce sul punto pezza si sveglia dopo due giorni. Non si ricorda cos'è successo, ma in futuro quando si troverà a fare delle domande arrivata la terza inspiegabilmente si bloccherà perché avvertirà come un fastidio, un dolore, il cervelletto. Lui non sa capire che cos'è ma a voi sì che lo sapete! Il primo viaggio di Cristoforo Colombo viene organizzato a partire dall'aprile 1492. La spedizione è composta da 120 uomini e tre caravelle a tre alberi. La Santa Maria, nave capitana di 200 tonnellate di stazza a vele quadre con l'albero di Mezzana a vela latina. La pinta, di 140 tonnellate comandata da Alonso Pinson con la stessa velatura e la ligna, di 100 tonnellate comandata da Ianes Pinson con vele latine. Lo sbarco avviene sull'isola di Guanahami nell'arcipelago delle Bahamas che è battezzato da Colombo San Salvador. Salute! 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 8 agosto 1492 Oggi gli uomini mi sembrano un po' irrequieti Certo, sentono la mancanza delle loro donne Anche Suor Marta è preoccupata Quindici agosto 1492 Piccolo incidente Oggi abbiamo tamponato la pinta Così ho capito perché il timoniere è soprannominato il Guercino L'ho redarguito Mi ha guardato un po' male Non poteva fare altrimenti Tuttavia lo trovo un po' ostile 2 settembre 1492 Quando dicevo a Suor Marta che può prendere il sole sulla poppa Non intendevo senza reggiseno La trovo un po' ostile Tuttavia oggi è venerdì E secondo il precetto si mangia pesce Come d'altronde tutti gli altri giorni Per variare Ho fatto preparare al cuoco Vitello tonnato per tutto l'equipaggio Non capisco perché gli abbia preso una crisi di nerdi Quando gli ho chiesto con che ami Si pescano i vitelli tonnati Lo trovo un po' ostile 20 settembre 1492 Oggi mi scade la patente nautica Il guaio è che non so dove andare a rinnovarla L'unica è non pensarci 25 settembre 1492 Giurerei di avere avvistato un frame Lo trovo un po' ostile 4 ottobre 1492 Finalmente oggi abbiamo scoperto una nuova terra Penso sia l'Austria Il nostro uomo mi ha chiesto le cartine Gli ho detto che non è il momento di mettersi a fumare Sono apparsi anche dei selvaggi Che hanno preso ad accoppiarsi con l'equipaggio Una roba brutta da vedere Ma io che non sono scemo Gli ho detto che avevo la peste Così domani mi bruciano Eh confido nel destino Anche se devo dire Lo trovo un po' ostile Per fortuna sto ultimando Il mio poemetto sulla guerra Che dice vano Vano è l'inumano Vano è l'inumano Occupato Vano è l'inumano Sforzo Di chi tenace e muto Indefesso e risoluto si erge Ed in battaglia Tende il dardo Ostico Che lo vilipende come una spada di Damocle Che pende Ma non vuoi scendere L'immondo suo Destino È vano È l'inumano Sforzo Di chi puntella i piedi E trattenendo il fiato La fronte Ricoperta da regolari onte Le gocce di sudore Che terge E tergiversa ascoltando Il lungo afflato Del trombettier E preludendo a quello scontro orrendo Si espande in sopra l'aria Con musicale varia Intensità sonora Ed ora Si riprende I muscoli ritende Insiste Si arrabatta Spinge Ed ogni sforzo è teso A liberare Il peso Poi ecco La visaglia Dei primi scoppiettanti colpi Di mitraglia Poi ecco che si sente Che Improvvisamente Molteplici Esplosioni Di lava Tormentoni Fan l'acqua Mille Spruzzi Pelisando in onda Intorno E di rimbombo Boato Di rompente Poi resta solamente La gioia Del moscone Io non posso che ringraziare il mio collega che mi ha preceduto Il quale ha parlato Un frame Ha parlato a lungo Degli antichi egizi Beh Sapete che c'è questo importante egittologo contemporaneo Savino Pezza Il quale ci è chiesto a lungo Come facessero gli egiziani Che sapete Vivevano prevalentemente di pesca Che è un po' di albicocca A costruire le piramidi Che erano costruzioni complicatissime Alcune piene di labirinti Altre piene di cruciverba Cosa comunque misteriosa Ora è vero che Noi siamo qui Per la traduzione Di questi geroglifici Rinvenuti In una zona Del Cairo Che gli indigeni Definiscono Zona maledetta Ma questi Sono leggende Sono favole Noi siamo qui Per la scienza Ma soprattutto Per la traduzione Di questi geroglifici Va detto che La conferenza su quelle Rarissime terracotte cinesi Annullala Vedete Dopo Che l'equipe del Pezza Ha asportato Queste iscrizioni Sono avvenuti anche Molti incidenti stradali Ma ripeto Sono superstizioni Noi siamo qui Per capire Quale vicenda Lo scriva Voleva raccontarci Con queste iscrizioni Abbiamo capito Che si tratta Di una vicenda Romantica e drammatica Al tempo stesso La vicenda di Cleopatra E Marco Antonio E la conseguente Tragica fine Di Cleopatra Lo scriva Ce la racconta così Marco Antonio Raggiunge l'Egitto Attraversando da prima Lo stretto di Mazzina Questo penso Non occorra nemmeno tradurlo Perché si può intuire Marco Antonio Quello sopra Lo stretto Quello sotto Attacca l'esercito egiziano In maniera piuttosto subdola Addirittura evitando Di far suonare La carica E questo ovviamente Gli permetterà di vincere Per due a uno Fuori casa Ma gli egiziani Riusciranno a pareggiare Allora Marco Antonio Tenta un'altra via Circuisce Cleopatra Infatti i due Fuggono assieme Hanno una breve Ma intensa Relazione Dopodiché Ecco Questo è l'unico Opinione di Cleopatra Al punto che Lo stesso faraone Il quale già sospettava Di avere un corno Viene avvisato In maniera piuttosto Anonima Quindi sentendosi preso In giro Decide di inseguire La fedifraga E la raggiunge Qui il faraone Tenta la via del cuore Le confessa Cleopatra Io aspetto un bambino Ma lei non ci casca Sei un uomo Non puoi aspettare un bambino Hai ragione Aspetto una bambina Ma è invece Marco Antonio Che ne approfitterà Colpisce il faraone Con un'arma che il faraone Non aveva mai visto Prima di allora E fugge a Roma Cleopatra intuisce Pur essendo una faraona Si è fatta fregare Come un pollo E decide Di togliersi la vita Sappiamo come muore Cleopatra Si fa mordere al petto Da un serpente Ebbene lo scriva Ce lo conferma Essa si fa mordere Da un aspide Al seno E tra l'altro Lo scriva Ci tramanda Anche assai sporgente E verrà infine Per questo sepolta In una piramide Questo è quanto Beh a questo punto Dobbiamo fare Un lungo passo indietro Andare alle scaturigini Chiediamoci Quali sono le vere Origini Dell'umanità Voi sapete che noi Abbiamo a tutt'oggi Davanti agli occhi Esempi viventi Che ci riportano indietro Nella scala evolutiva Come si spiegano Ad esempio Strani fenomeni animali Come l'uomo Ragno La donna Lupo Pecoraro Scagno E tanti altri Vedete Charles Darwin Il fondatore Della rivista Selezione Afferma che l'uomo Discende dalla scimmia Anche se non sa spiegarsi Come abbia fatto A salirci Certo i reperti A nostra disposizione Sono molto pochi Di molti non si capisce L'utilizzo Abbiamo capito L'utilizzo Di alcune ossa Buccarellate Insufflando Davano una melodia Erano ossa Ma erano anche strumenti musicali Quindi queste ossa Che poi Abbiamo battezzato I piffemori Ecco questi piffemori Rappresentano un rinvenimento Che la stessa cannibalistica Che è la scienza che studia Le traiettorie Degli spinelli Ha datato Grosso modo All'epoca dell'uomo Di Neandertal Ora voi tutti sapete Che l'uomo di Neandertal È stato scoperto Molto tardi E d'altronde Lo stesso Neandertal Teneva nascosto Il fatto che stava Con un uomo Ma il recentissimo rinvenimento Avvenuto in Svizzera Di un paio di scheletri Di cui uno anch'esso Pieno di buchi Farebbe pensare Anche all'esistenza Dell'uomo di Neandertal E dell'uomo di Simmental Certo allora Il linguaggio Era molto involuto I termini usanti Erano molto pochi I nomi propri Erano tre o quattro Ecco una domanda Interessante Con che nomi Si chiamavano tra di loro I primitivi Tre o quattro nomi Dino Sauro Rino Ceronte E pochissimi altri C'era anche la presenza Di animali Oggi sconosciuti Come lo pterodattilo Che era questo grosso uccello Che sapeva Contemporaneamente Volare e battere A macchina Ma era anche la presenza Di animali Ai quali si fa fatica A credere Animali di stampo Mitologico Come il Minotauro Che come saprete Se ne stava tutto il giorno Rintanato In una caverna Con la sua signora Gioia Tauro È un'interessante Testimonianza Dell'immaginario Collettivo Ma siamo entrati nel campo storico Occupiamoci dunque di questo lasso di tempo Che va dalle più antiche città della Grecia Sapete si chiamavano Polis Le famose Polis greche Ed arriva alle più moderne città dell'Alto Adige Polis Tirolo Parlando di queste popolazioni antichissime Popoli indoeuropei Come gli Ittiti Che come saprete Rappresentavano un popolo semi-analfabeta È risaputo che gli Ittiti Conoscevano solo due lettere Dell'alfabeto Non si sarebbero mai chiamati così Ma vedete Vi è questo esperto Delle antiche religioni Savino Pezza Il quale ci dice Che nell'antica Europa Gli dei Le divinità Erano legati spesso A momenti tristi Di malattia Io vi ricordo Herpes Il dio delle infezioni Ma se noi andiamo oltre oceano Troviamo divinità più allegre Il Pezza si è occupato A lungo del popolo dei Maya Sapete che i Maya Adoravano questo dio Dalla forma di ape L'ape Gli dedicavano anche un mese all'anno Di ricorrenza Nel quale sfilavano i carri Ed era detto il mese dell'ape car Ora Quando un Maya si arrabbiava Veniva chiamato Incas Inoltre come saprete I Maya avevano questa sacerdotessa Che prediceva il futuro Per appuntamento Ed era detta Appunto Maya Lola Scusate Un po' di reseghino Erano già i tempi In cui la regina dei Sumeri Donna Samer Coinvolse in un conflitto Persiani E Saraceni Vi ringrazio Ma non siamo al cabaret Coinvolse Persiani E Saraceni Soprattutto a causa Delle loro donne Sappiamo per certo Che le Persiane Non potevano sopportare Le Saracinesche Infatti andarono anche a Venezia A combattere Perché odiavano anche le Veneziane E poi giù tutti contro i pigmei Perché detestavano anche Le tapparelle Ma questo non fu che il preludio Alle future calate Nei popoli barbari Comigotti Vigigotti I burgundi Vandalite Pisti Gli stronzi Che cesero in Italia Alla ricerca di nuove terre Da fecondare Di nuove donne Da arare E voglio dire Chi non conosce Atti l'alunno Teodorico L'altro E non dimentichiamoci Del popolo tartaro Sconfitto solo da un dentifricio Ma vedete Spesso I miei studenti Mi scrivono sul mio sito E mi chiedono Ma com'è possibile Che voi archeologi Trovate una ciotolina Trovate un pezzo d'osso E avete già intuito Che si tratti Di chissà quale Ancestrale rito Non è che vi inventate tutto No Non ci inventiamo Proprio Tutto No Diciamo una cosa Quando noi effettuiamo Un rinvenimento Abbiamo sempre dei documenti Da andare a controllare Siamo in grado Di fare controlli Incrociati Come la finanza Ora io posso anche Farvi un esempio Noi sapevamo Che a dare origine Al popolo ebraico Fu l'antichissimo popolo Dei sumeri Noi sapevamo Altresì Che esistono due ceppi Fondamentali Nella popolazione sumerica I sumeri Cosiddetti Semiti E i sumeri Cosiddetti Non semiti Ebbene oggi noi Non sapremmo nulla Sulla differenza Fra queste due popolazioni Se un importante Sumeriologo Contemporaneo Proprio lui Non avesse rinvenuto In un sito Della Palestina www.palestina La tavoletta Di Babilonia La tavoletta Di Babilonia Ci raffigura Sumeri Semiti E sumeri Non semiti Intenti a raccogliere Legname Aiutati dai loro animali Da Soma Ora A prima vista Potrebbe sembrare Che i somari Dei sumeri Semiti Siano identici Ai somari Dei sumeri Non semiti A ben guardare Non è così La colonna vertebrale Dei primi È più arcuata Rispetto a quella Dei secondi Per via di un osso scapolare Un osso rotondo Detto osso sumerio Infatti ingrandendo l'immagine Possiamo notare Che il sumerio Dei somari Dei sumeri Semiti È più largo Rispetto al sumerio Dei somari Dei sumeri Non semiti Oggi la moderna Scienza medica Ci insegna Che le maggiori O minori dimensioni Delle ossa E delle cartilagini È data Dall'azione Di un enzima Del sangue Detta somatina Ebbene Noi ci chiediamo Perché La somatina Del sumerio Dei somari Dei sumeri Semiti Fosse più attiva E' il risultato Che grazie ai sacchi Di semi Di sesamo Di samaria La somatina Del sumerio Dei somari Dei sumeri Semiti I somari E' sumeri Non semiti Non somari Va da sé E' ovvio Che chi studiava Di più Lavorava meno Quindi il suo animale Si stancava meno Quindi possiamo dire Che i somari Dei sumeri Semiti O non semiti Somari Erano più stanchi Dei somari Dei sumeri Semiti O non semiti Non somari Ma essendo più stanchi Questi animali Erano anche più lenti Più tardi Di comprendone Quindi possiamo anche dire Che i somari Dei sumeri Semiti O non semiti Somari Erano più somari Dei somari Dei sumeri Semiti somatina del sumerio dei somari dei sumeri siano essi semiti o non semiti, somari o non somari. Non ho finito! Sarebbe un bel somaro chi affermasse che è più somara la somatina del sumerio dei somari dei sumeri semiti e non semiti somari e meno somara la somatina del sumerio dei somari dei sumeri semiti e non semiti non somari. Anche perché signori miei non Non c'erano solo i sumeri semiti e i sumeri non semiti, no, troppo facile, c'erano anche i semiti non sumeri, lo sappiamo, abbiamo dei documenti, una semita non sumera somara sposò un sumero semita non somaro di quell'incrocio tra il somaro della semita non sumera somara che era più un somaro e il somaro del sumero semita non somaro, ah, che era meno somaro, ah, nel nacco un terzo, ah, tipo di somaro, ah, che la scienza, ah, definisce succo, ah, 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 ah E' un periodo che si lavora! Dunque, Rovigo, lì, ero lì, Rovigo, giusto? Se ero qua, ero lì, Rovigo, lì, aprile, duemila e zero, e due, punto. Egregio, signor presidente entrante, speriamo non troppo, della associazione del cinema, punto. Vengo, mi scusi il termine, a lei, con questa mia, che spero diventi anche sua. Come posso confidarci il mio pensiero? Come posso esprimerci il mio lomarico? Come posso, insomma, come va lì in ufficio? Qua tutto bene, grazie. Perché sono tutte queste formulette che ho fatto col computer sta qua, davvero? Ho comprato World 2000! Professional! Ma stiamo scherzando! Giù, l'ho fatta col computer! Ora no! Adesso, sembra scritta la penna, perché in realtà mi si è rotta la stampante, ho dovuto copiare tutto dal schermo, ma che difficile! Ma l'ho fatta col computer! Il computer è un problema, perché lui ha un sacco di cose automatiche e poi te non riesci a fare più niente manuale. Davvero, eh? Per esempio, World 2000 Professional ha la correzione automatica. Lui corregge tutte quelle parole che per lui sono sbagliate. Non ci interessa che per te sono giuste. Lui le corregge lo stesso. Scrivo balasso, mi scrive salasso. Scrivo Dini, mi scrive Fini. Mi cambia il tipo di politico proprio. Dall'Emma Calamaio. Vabbè. Ha anche un altro programma che serve per correggere le parolacce dentro le IMAI. Ti arriva le IMAI tutte piene di parolacce, no? Allora lui corregge tutto e ha anche un foto ritocco per ritoccare le foto troppo sconce, eh? Si chiama, proprio serve a censurare, si chiama censure del 2002. Professional anche lui. Mi è arrivata una IMAI con dentro tutti i nomi dei politici. Alla voce, onorevole Maroni, lui mi ha corretto, onorevole Amenniccoli. Giuro. Casini, case chiuse. Onorevole, case chiuse. Mi è arrivata una foto di Pamela Anderson tutta nuda. È entrato in azione il foto ritocco. Adesso lei è ancora tutta nuda, però ha la faccia del mago Telma. Era meglio prima. Sai qual è il problema? Di questa roba qua, che io per esempio ho voluto cavare via la coresione automatica. Ho detto adesso la voglio fare manuale. Ci riesci solo se hai una pagina sola di documenti. Ma io avevo un documento di tre pagine. È impossibile. Perché io la prima pagina, vabbè, ho detto adesso facciamo la coresione manuale, guardiamo il schermo, mi prendo il mio bianchetto e comincio a fare le mie coresioni su schermo. Allora, la prima pagina tutto bene. Quando che arriva la seconda pagina, il bianchetto mi va a coprire delle parole che io non volevo mica che lui me le copriva però. E se hai cento pagine ti copri tutto il schermo. Vero? Dunque, il nostro virgola, averla stata virgola come gli esempi gentile e quando virgola il pomeriggio erano, punto. di aver fatto un po' di casino col taglio in colla qua. Oh, io faccio fatica anche a accendere il computer. Quanto ci metti te a accendere il computer? Ah, 40 minuti ci metto. Davvero. Io accendo, si accende una spia verde. A casa mia una spia verde vuol dire che si può scominciare, giusto? Niente. Il schermo resta nero. In compenso senti dei rumori. Poi aumenta sempre più. Sembra che stanno scossando il maiale. Poi c'è scritto adesso sto caricando questo, adesso sto caricando quel. Quanta roba che deve caricare, poveretto. ci senti sforzo fisico? Iiii! 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 Finalmente appare una schermata bianca e su c'è scritto In Vindo 2000. Professione! Dici, finalmente si può scominciare e invece senti ancora. Iiii! Iiii! Sotto c'è scritto, ero rimasto indietro di caricare un po' di roba ancora. Vabbè. Finalmente appare il Desk Toons. Che significa che il schermo è tutto colorato e c'è tutti i programmini piccolini, no? Te dici, vabbè. Allora si scomincia. Il primo tasto che tocchi si scancella tutto immediatamente. Arriva tutta una scritta, tutta con la cornice scritta Allarm! Allarm! Ok tu! Ok tu! Ok tu! Si comincia a aprire un lampeggiante sopra il schermo. Oh! Che disastro! Se avvi senti un angolio! Iiii! 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 Arriva un ometto con gli occhiali. Si tira su di manica e fa salve. Sono il signor Norton. Piacere balasso. Ma io sarei l'antivirus. Devo vedere che non c'è dei virus qua dentro. Ho il riscaldamento al massimo. No, no, no. Devo fare la scansione dei fines. E che cazzo vuol dire? Semplice. Io leggo tutto quello che hai scritto nel tuo computer. Curioso, signor Norton, però. Devo farlo. Adesso scomincio, tanto faccio presto. Vrrrrrrr. Va velocissimo. Ma talmente veloce che te non riesci neanche a leggere i titoli dei documenti. Allora io mi son domandato. Ma se io non riesci neanche a leggere i titoli, com'è che fa lui a leggere anche tutto il documento che c'è scritto sotto? E allora ho capito. Non legge niente lui. Fa finta. Ti racconta a te che legge. Ci dà una scorso veloce, ma non legge. Infatti alla fine dice, ho controllato tutto. Ma si vede che fa l'occhiolino. Giurin, giurello. Puoi scominciare. Vabbè. Allora, te, come che ti distrai un attimo, ti volti e c'è una finestra aperta sul schermo. E dici, sarà un colpo d'aria, non so cosa è stato. Eh, mica aperta tu, sei aperta da sola, eh. Vabbè. E su c'è scritto, adesso io e te ci facciamo tutti insieme una bella esercitazione di 20 minuti. Sei contento? Ho detto, guarda, hai fatto tardi a sgossare il maiale. Allora, state da prendere. Ma inutile che te ci parli, perché lui non ti ascolta mica a te, fa tutto automatico, parte da sola esercitazione. Lui ti dice, adesso ti presento il mio assistente. Salta fuori un cagnoletto, un can. Comincia a girare avanti e indietro per il schermo. Io ho pensato, magari è un giochino. Adesso lo amasso col mouse, eh. Si è aperto tutto il schermo riempito di finestre, più ho visto neanche il can. Poi ho pensato, finché non sporca, teniamolo. Ma ho fatto male perché le cartelle dei programmi da me sono tutte mangiate sugli angoli. Mi sta facendo un sacco di dispetti sto can. Mi va a frugare dentro al cestino, eh. Io metto, butta il cestino e lui mi svuota il cestino subito. Mi è andato anche in calore la settimana scorsa. Mi ha marcato il territorio. Devo stare lontano dal schermo adesso io, eh. Neanche Norton ci fa più il signor Norton. A sto can, in tacca la gamba, basta. Va via brutto cagnasso, maledetto. Ti mando in quarantena e ti mando. Il cane ti insegna tutto quello che te devi fare. E te ti senti intelligente? No. C'è un cane che ti insegna. Vabbè. Però sono tanti venti minuti. Quando che sei quasi alla fine, con i maroni che rimbalzano da tutte le parti e il cane che ci vuole anche giocare, si apre una finestra a befarda e su c'è scritto, che peccato! La nostra esercitazione volge ormai al termine? Io ho pensato, a quello lì è meglio darci ragione. E allora ho fatto un po' la comedia, ho fatto, mmm, che scalogna! Che sfortunello che sono! Mmm, sai cosa ho fatto? Facendo mmm, ho picchiato sul mouse, mi è ripartita l'esercitazione, eh? Quaranta minuti e ho fatto per taccare sto maledetto di un computer! Pazienza! Io, signor Presidente, ci esprimo un crucio che ho, di una roba sumiia che sta succedendo in Italia, in dentro e nell'interno dei cinema. Adesso stanno venendo fuori tutti questi multisale che ormai è pieno così! Ci ho fatto proprio il disegnino animato, eh! che è un scandio! È una vargoia! Che è un attore onesto, che lavora, che si fa... che lavora tanto, insomma! Con tutte queste sale non c'è neanche un film della mia casa di produzione, la lurido film. Perché? D'accordo, noi facciamo dei film un po' di nicchia, ma è pur sempre un lavoro frutto del sudore della nostra fronte e non solo della nostra fronte! Signor Presidente, se vuoi formatare il testo con un stile più grassetto, oppure più magretto... E mi hanno scritto i suggerimenti del cane sto maledetto qua! Ma io lo odio War 2000! Mi trovavo meglio con quello vecchio io! War 71 era molto meglio! Mancava le doppie, ma era meglio! Ci dicevi Scangel a War 71! Scangelava immediatamente, buttava via tutto, poi si guardava intorno, furtivo anche! Non vedeva allora che ci dicevi Scangel a War 71! Delle volte, War 71 scangelava senza che te ci dicevi Scangel! Prendeva iniziative, no? Te eri lì che scrivevi da mezz'ora? Si apriva all'improvviso una finestra! Ho scangelato tutto, caro mio! Ma si vede che lui aveva un programma che dal schermo riusciva a vedere la tua faccia delusa! Vedeva la faccia che facevi! Ci veniva il scrupolo! E allora si apriva un'altra finestra dove c'era scritto Ho fatto bene! Voleva sapere come che aveva pensato! Ti mettevi i bottoni Sì o no? Beh cliccavi No! Ci apriva un'altra finestra! Pazienza! Almeno c'era più dialogo! Guarda che anche come sistema operativo War 71 e War 2000 anche in Windows 71 e in Windows 2000! C'è la differenza che c'è da un bimbo piccolo è un adulto! Ma un adulto cattivo però! Finde 2000 non è un sistema operativo! È un sistema nervoso! Finde 71 era come un bimbo! Lui non ti sapeva dire perché che si sentiva male! All'improvviso si bloccava! Tratteneva il respiro come i bimbi! Ci veniva il schermo pao naso! Vomitava i dischetti! Senti te capire che aveva preso il virus poveretto! Vindo 2000 non sbaglia più! Lui non può commettere più errori perché per lui è sempre colpa tua! Risolto! Ti apri un programma e lui ti apre una finestra! Questo programma ha eseguito un'operazione che non mi piace proprio neanche un po'! Ma è tuo il programma! Mi viene rompere i maroni a me? Se il programma ha fatto un'operazione non valida! C'è modo di dirlo però! Lui invece scrive e per questo sarà sterminato! Questo è nazismo questo! Poi non ti apre più niente! Provate ad aprire internet esploder! Eh esploso! Ne provi ad aprire degli altri! In sequenza non te ne apre più niente uno! Ne provi un altro! Niente questo puoi aprire caro mio! Un altro! Si siamo mica capiti io e te! Si incorce! Prima che te vai a toccare il tasto sei quasi sul tasto e lui apre la finestra! Eh! ti ho visto non toccare lì cacca! Allora te! Zitto zitto! Guato guato! E anche gobo gobo! Senza che lui si incorge ci vai col piede sotto la scrivania e ci clicchi reset! Così hai fregato eh! pensi te l'averlo fregato! Quando che si riaccende? Ancora più incassato di prima! Un schermone blu! E ti dice l'ultima volta che hai spento il computer! Non hai mica fatto tanto una roba! Bene a te eh! Ma lascia mi bacio un attimo! Io non riesco a scrivere queste lettere però te lo dico a voce! Quando che andiamo in un cinema dobbiamo domandare dei film di qualità! C'è delle case di produzione bravissime! La nostra casa la Lurido Film fa dei film bellissimi! Se noi facciamo una rassegna a parte che è una rassegna che vi interessa a tutti quanti! Sono sicuro che voi andate a vedere i nostri film! È una rettospettiva che secondo me vi può interessare! Facciamo tutti i film di quest'anno! Vi ho fatto un film ambientato a Venezia titolato Anna il Grande! È andato bene! Un film sui a Chicago di anni venti dopo che io faccio la parte di un noto gangster che si chiama Al Chiappone! Un film sui tre moschettieri! Uno per tutti e tutti dentro uno! Io qua interpretavo uno! Ero da solo! Ho fatto d'Artagnasso! La spada nella roccia! Volevo fare Artù! Mi hanno fatto fare la roccia! Pazienza! Bisogna adattarsi perché noi siamo professionisti! C'è un regista che dice ciak! Si gira! Io mi giro e comincio il film come cinema normale anche noi altri! Ma stai scherzando? Facciamo di tutto noi! Guarda che io ho fatto anche la parte di un contadino tibetano io! Che ha la mano proprio con il suo aratro tibetano! Sai com'è che ha fatto l'aratro tibetano? È piccolissimo l'aratro tibetano! Qual è il problema? Che in Tibet il periodo della aratura coincide col periodo degli amori di un tipo di antilope tibetano che si chiama Impala! E non a caso eh! Il contadino terrorisato la soli detto! Carlo Aratro! Il titolo è proprio paura da arare! Proprio introspettivo come... Va che sono film difficili da fare! Una volta ho fatto anche un film intitolato l'uomo che sussurrava ai cavalli basta! Prova a te essere incapace! Prova! Prova! Guarda che il cavallo... Il cavallo... E a me mi dispiace parlare male dei colleghi! Ma e il cavallo? E inoltre che il regista ci dice... Stop! Smette quando che vuoi! Lui quella bestia vigliaca maledetta! È inaffidabile il cavallo! Meno male facciamo i cartoni animati! Poi abbiamo fatto la lampo di Aladino! Chi ha castrato Roger Rabbit! Spingi Gonzales! Eh ridi ma che Gonzales è piccoletto ma dà fastidio eh! I porche mon! Poi abbiamo fatto una serie Italo-Veneto-Giapponese intitolata Sailor Mona! E' andata bene sia contenta! Però il film che io ci tengo che venite tutti a vederlo è questo film ambientato nei rioporti coi rioplani! E' la storia di un passeggero che sono io protagonista assoluto! Il passeggero sta per imbarcarsi nel suo rioplano col suo bel bigliettino! Ma a un certo punto una affolata di vento sbarasina ci fa volare il biglietto nel bel meso della pista! Mentre sto raccogliendo il biglietto non mi atterra alle spalle un boi! Sì! Settecentosessantasette! E il titolo è mamma ho preso l'aereo! E' l'amore che vince! L'amore che vince! Sempre! Finchè i giovani avranno voglia di innamorarsi la vita andrà avanti! Finchè ci saranno anche solo due giovani innamorati! Di sesso diverso la vita andrà avanti! Ed è commovente! Non avete idea di quanto io mi commuovo quando vedo all'uscita delle discoteche questi ragazzi e queste ragazze che si tengono mano per mano e si avviano verso i boschetti, verso le pinettine che circondano le discoteche! Ora qualcuno si è anche chiesto cosa ci faccia io a quell'ora di notte nei boschetti e nelle pinettine! Ma io ho risposto al brigadiere che questo fa parte dell'aspetto scientifico della questione! Sono un acuto osservatore! Vedete? E' emozionante pensare come i giovani si innamorano in una discoteca! Entriamo in una discoteca di 5.000 persone! Un ragazzo e una ragazza che stanno per innamorarsi li riconosci a occhio nudo! E emanano luce propria! Anche se non si sono ancora incontrati capisci che sono predestinati! Perché sono già innamorati della vita, delle proprie mode, dei propri cantanti, non gli interessa come si chiamino! Si possono chiamare anche Mark Knopfler! Ci si innamorano lo stesso! Un consiglio per Mark Knopfler! Compra una vocale! Comunque, hanno voglia di innamorarsi i giovani! Allora, in qualunque modo noi li abbiamo confezionati, perché noi li confezioniamo nei modi più assurdi i nostri giovani! Andiamo a vedere come li ha confezionati la società! Allora, lui ha una maglietta bella, larga, piena di numeri strani, parole, lettere strane, larga, comoda, stracciata, pronta da buttare via! Un paio di pantaloni larghi, comodi! Deve camminarci comodamente dentro! Quindi, cavallo basso, basso, molto basso! Non è un cavallo, è un tapiro! Quindi, non è che lui cammina così apposta! Sono le braghe che lo fanno camminare! Uno dice, perde le braghe! No, perché ha delle apposite scarpe fatte a boa! Che servono proprio a salvare le braghe! Lui le porta slacciate per recuperare gli spiccioli quando cammina! Lei, un paio di pantaloni attillati, che però hanno questo aggancio di tipo inguinale, cioè gli manca tanto così di cintura! Gli rimane questo mezzo sorriso qui dietro, che lascia intravedere un indumento che lei si ostina a chiamare mutande, ma che è solo una linea frangichiappe! Lui, a vedere sta roba che si dimena, non capisce più niente! Cioè, i suoi ormoni fanno gli esercizi di riscaldamento! Lei intuisce, quindi ballando lascia sollevare questo top che fa intravedere un reggiseno che a stento tenta di trattenere due capezzoli imbisarriti che fanno di tutto per fuoriuscire! Lui non capisce più niente, capisce che deve far finta di saper ballare! Gli esce solo il passo del petomane, ma ci prova! Lei è più disinvolta, lei si muove come se un burattinaio le sollevasse le natiche alternativamente, anche perché questo filo intervulvare le dà la scossa mentre balla! Ma ormai sono innamorati, mano nella mano! Escono dalla discoteca, lui che sta tentando non pestarsi i lacci cammina così! Lei, ancora col passo del burattinaio, cammina così! Sembra una gita a Lourdes, ma è appena nato un amore! Vedete, l'ultimo periodo di quando io ho avuto esperienza diretta dell'innamoramento risale agli anni settanta. Non voglio battute! Allora era come adesso! Bisognava dimostrare di essere disinvolti anche se non lo si era! Bisognava dimostrare di essere autosufficienti anche se non lo si era! Auto muniti! Infatti si rubava la macchina al papà, si andava! Con la 128 Sport, chiunque abbia guidato una 128 Sport sa che era l'unica macchina da guidarsi sdraiati! Angolo visuale zero! Sicurezza totale di incidenti! Vedevamo i pioppi! Ma le chiome però! La 128! Era anche una macchina maschia! Era una macchina arcigna maschia! Adesso le macchine sono femminilizzate! Hanno le linee tonde, curve, protezione, comfort, sicurezza! Sono delle mamme! Negli anni settanta le macchine erano maschie! Devono dare un senso di potenza, di virilità! Il rumore del motore della 128 era un rutto amplificato! La 128 non andava a benzina, andava a peroni! Tu aprivi la portiera, ne fuori usciva una zaffata di caprone selvatico! Era maschia! Questo perché agli interni, le moquette, erano di caprone selvatico! Avevano messo il pelo dappertutto! Anche nel sedile! Ti sembrava siederti in braccia un panda! D'estate sentivi anche l'alito sul collo perché l'aria condizionata non c'era! Il volante aveva un coprivolante di cotenna di bisonte! Andavi a cambiare! Cos'è sto ratto muschiato?! Era il pomello del cambio! Tu scalavi, ti sembravano di strozzare un chihuahua! E poi, non solo la macchina, ma anche tu eri tutto a punta! Le scarpe a punta, le cinture a punta, i colletti a punta e lunghissimi! Si intastravano dappertutto in autora per uscire dalla macchina! Erano talmente lunghi che ti si potevi anche appoggiare! Stavi sul chi vive! Stavi sul chi vive perché negli anni 70 anche gli obesi non avevano la pancia! I jeans erano tutti tagli a 42! Però riuscivi a metterli! Avevamo dei muscoli nelle braccia incredibili! Riuscivi a tirarli! Tiravi sulla zip e lì c'era il rischio di incidenti irrecuperabili poi! Perdevi sei tagli in un secondo! La pancia risaliva a riempire gli addominali e ne era inibita da ridiscendere da apposite fibbie metalliche minacciose! Rappresentavano angeli con le ali a punta! Serpenti con la lingua di forcuta! Diavoli col forcone! Tu ti lasciavi andare e ti praticavi un'incisione addominale! Quindi stavi sul chi vive! Il passo era rigido! Non avevamo lo sbloccaggio del ginocchio! Questo perché i jeans non erano attillati! Erano incarniti! Li mettevi a 12 anni e non li toglievi più! C'è gente che ancora adesso sotto le braghe normali ha i jeans di quando aveva 12 anni! Poverino che gambe blu! No, sono i jeans! E camminavi così! Rischiavi il cappottamento nei giorni di vento! Questo aiutato anche da una cofana di capelli laccati che non era laca, era bitume! Faceva l'effetto vela proprio! Meno male che tanti avevano i basettoni che fungevano da remiganti in qualche modo riuscivi stai ma non era facile! E quindi ci voleva peso per bilanciare quindi la fibbia non bastava, 38 kg ma non bastava! Quindi il medaglione, altro peso, altri 20 kg di medaglione perché negli anni 70 tutti avevano il pelo sul petto! Tu tanto pelo sul petto! Era obbligatorio avere il pelo sul petto! Tutti dovevano averlo! Anche le donne! Chi non ce l'aveva se lo procurava! Prendeva il muschio del presepico, il bosti se lo attaccava! I più bravi non aveva neanche la catena sul petto! Prendevano il medaglione e lo incastonavano direttamente nel pelo! E stava! Se era un crocifisso stava anche meglio perché riusciva anche ad aggrapparci! Ma non bastava tutto questo peso! Ci voleva una barra da setto variabile che spostasse il peso a seconda delle esigenze! Sì, il borsello! L'hanno inventato per quel motivo lì! Prendiamo per il culo i giovani adesso! Ma anche noi! Facevamo delle performance, niente male! Ora io vi dico, allora, come adesso, quando ci si innamorava bisognava essere stupidi! Questo perché la natura esige che l'innamorato sia stupido! Tu non puoi pensare! Se tu pensi, non sei innamorato, è evidente! Devi lasciarti andare, devi lasciarti crogiolare in questo mare di ormoni! Dire quelle frasi, andare fino in fondo! E dire anche frasi di cui ti vergognerai o che troverai ridicole ma in quel momento le devi dire, devi avere il coraggio di guardare negli occhi una ragazza e dirle, mi vedo riflesso nei tuoi occhi! Le cose sono due! O lei ha due occhi così, o tu hai un encefalogramma concavo! Questo è evidente! Ma anche se ci sono frasi più corrette, mi vedo riflesso nei tuoi occhiali, più corretto! Non ti vedo senza occhiali, più onesto! Ma non è così romantico! Sbagliano i giovani a volersi appoggiare a queste sostanze artificiali per sembrare più disinvolti! Ottengono l'effetto opposto! Dentro di sé pensano di essere disinvolti, fuori si vede tutta un'altra cosa! E questo si capisce perché si chiamano sostanze stupefacenti! Perché tu prendi la pasticca, parli con la ragazza, la ragazza rimane stupefatta da quello che hai appena detto e scappa via! Vedete, io ho appena terminato di leggere il quarto tomo di un'opera magna sui narcotici, scritta da un noto esperto del settore! Mi fa piacere che tutti l'abbiate letto! Da qualche faccia capisco che avete seguito anche gli esempi illustrativi! Erano solo esempi comunque, erano solo esempi! Ora il pezzo ci dice che noi la droga la troviamo in qualunque situazione! Sapete cosa? Io sono rimasto meravigliato! Impensabili! Il borotalco! Voi sapevate che c'era droga nel borotalco! Il borotalco è la cosiddetta droga dei poveri! Dà un effetto solo! Uno sniffa borotalco, poi va in giro e vede felci dappertutto! Il borotalcomane è l'unico tossico profumato che c'è in giro! Gli insetti! C'è la droga negli insetti! Questo è vero! C'è un insetto che si chiama cantaride, il quale viene essiccato! Se non tiene una sostanza polverosa che è raffinata diventerà un allucinogeno! Ora mi assicurano che tutti questi procedimenti... Cioè il primo che ha fatto tutte queste cose con la cantaride, la prima volta l'ha fatto a caso! L'ha scoperto per caso! Per caso! Ma com'è possibile? Se io posso capire com'è per caso il selvaggio impara a fumare l'erba! Questo è comprensibile perché il selvaggio è seduto ai limiti del bosco, arriva un fulmine e va a fuoco il bosco, si riempie tutto di fumo, comprese delle piantine di marijuana che crescono spontaneamente, il selvaggio vede i cervi che escono cantando il reggae, con le treccioline al posto delle corna, e dice magari c'è da divertirsi là dentro! Ma non capisco la cantaride, perché è un insetto per prenderlo, bruciarlo, essicarlo, grattugiarlo, smifarlo! Cosa ti ha fatto questo insetto per trattarlo così? Amazzalo subito! Un po' di bygon! Noi troviamo la droga nella sfera dell'infanzia. Qualche mente perversa ha voluto mettercela anche lì, dentro i libri delle fiabe, accanto ai boschi, accanto alle case. Sono dei funghi rossi a pois bianchi. Si chiamano amanite muscarie e sono funghi che danno allucinazioni. Come abbiamo fatto a non accordercene mai. Bastava leggere. Solo una persona in preda ad allucinazioni può aver visto una casetta di marzapane gialla e rosa in mezzo a un bosco. Solo uno che si è fatto una droga pesante può aver visto un tipo in calzamaglia che suona il piffero e 400 pantegane che gli vanno dietro. Solo uno che si droga tutti i giorni può aver visto un gatto che si mette gli stivali dove lo trova il suo numero! E poi va più veloce, no? Il pezzo ci ha voluto provare col suo di gatto scientificamente. Ha preso alcibiade, gli ha messo gli stivali, quattro per sicurezza, gli ha detto vai! Non riesce, si imbalza, non ce la fa! Il gatto con gli stivali non riesce neanche a partire! E Biancaneve, perché pensate che si chiamasse Biancaneve? Era sempre contenta! Come si sta bene nel bosco in mezzo ai toporagni! E chi stava meglio di là? Cosa gliene fregava lei del principe azzurro? Onestamente! Saranno stati i nani! Ma erano sette! C'era la scelta! Lei ogni tanto diceva vado di là a farmi un pisolo! Brontolo si incazzava! Brontolo era sempre incazzato! Noi tutto il giorno a tagliare bonsai! Ecco perché io sarò sempre d'accordo con Cicerone quando afferma che... Cosa diceva Cicerone? Nunc per aspera ad astra tamquam alea jacta est ben pidifici sic et sempliciter quoque tu, quoque tu condizio sinequanno ubi maior minnor cessa te putatam tandis Ma era il protagonista! La mosca 261 prima! Scusa non sapevo che eri te! Riprenditi! Riprenditi! Ah! La respirazione! Niente! Bisogna prendere uno nuovo! Scusa! 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 Ma te sei proprio Dirovivo centro oppure... Periferia! Ah mi sembrando! Allora... Ciao, ciao.